Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Per realizzare questo ombrellino pieno di fiori ci occorreranno 6 quadratini di cartoncino 10x10, la colla, una cannuccia, una foratrice per fare i fiorellini, tre pezzettini di cartoncino colorato sempre per i fiorellini, una forbice, io uso questa per far prima ma potete utilizzare anche una semplice forbice e un pezzettino di carta. Prima di tutto dobbiamo creare dei coni con questi cartoncini. Una volta fatti i sei coni vanno incollati, vanno incollati in questo modo. Grazie. 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 Io ho preparato un piccolissimo cono da mettere sulla punta dell'ombrello. Grazie. 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 Grazie.